Io ti chiamo e comunque magari verso le sette e mezza, le sette, 3-3-9, si, si, perfetto, ti chiamo stasera che almeno ti chiamo, se non è proprio, perché non sono proprio incasinatissimo, lo facciamo, adesso lo facciamo l'altro giorno, perfetto, dai, a Fabio, grazie. Allora, tiro fuori il cagno, qui la suona il cagno, il tubirato, guarda, 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 si, mettiamo anche questo in mezzo, mettiamo anche questo, eh, basta con la tosatura. Oh.